Apri a Pescara la cittadella dell'infanzia, un progetto dedicato ai bambini da 0 a 6 anni che comprende tante attività completamente gratuite. La cooperativa sociale Orizzonte è capofila di una cordata di 20 partner tra istituzioni e associazioni del terzo settore. Il progetto comunque ha la particolarità di essere diffuso sul territorio, per quello si è partiti già a ottobre del scorso anno in attesa che completassero la struttura perché erano già previste delle attività, ad esempio si lavora nelle scuole, sono quattro comprensivi scolastici che fanno parte del progetto e all'interno di queste scuole ci sono degli sportelli di ascolto, dei genitori, di consulenza per genitori e insegnanti e anche dei laboratori all'interno delle classi sempre nell'ottica di supportare la crescita dei bambini e supportare i genitori nel loro ruolo. Il progetto è realizzato grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e suscita tutta la soddisfazione dell'amministrazione comunale. Praticamente questo è un centro di aggregazione, lo definisco così, dove noi come amministrazione comunale ci siamo adoperati molto per far sì che questa struttura avesse luogo e inizio. Il comune è molto sensibile a queste iniziative e noi ci aspettiamo di avere altre iniziative come queste perché soprattutto quando si parla di infanzia e di bambini con un disagio sociale è giusto stargli vicino e dare loro una mano sia a loro che ai loro genitori. Per noi è molto importante perché è bello vedere che anche questi bambini meno felici possano trovare in questi luoghi un po' di felicità insieme agli altri bambini, insieme agli insegnanti che li seguono e li portano avanti nel loro percorso formativo.